ormai sono due ore che parliamo ininterrottamente di me adesso basta basta parliamo un po di te oh coraggio dimmi che cosa pensi di me Luigi ho voglia di te a pesco al limone ma hai capito ho voglia di farlo ah e tu ci vuoi aumenta il volo su un po' di acqua e poi c'è la cala a bustinare dove vai? a fare in culo e papà lo sa? si papà è già là che mi aspetta vuoi andare anche te copriti bene Nicolò che fa freddo no ma fare in culo tanto fa caldo ciao 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 che che la cusarella là è piccolina ma se mangi il conto in banca a macchina a casa mara a casa in montagna se mangi pure a te dovrebbero metterci un cartello esposto fuori lasciate ogni speranza o voi che entrate perché vi chiamate suore? ma te lo dico ma che rimanga tra di noi noi ci chiamiamo suore perché quando andiamo su dai frati siamo su ore 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 oh ma la vuoi smettere di bere ma non ti rendi conto che sei diventato un dipendente dell'alcol oh io non sono dipendente io sono il titolare un caffè per favore come lo vuole? come lo posso volere il caffè? mocaccino, marocchino, mocacciocco, macchiato a caldo, macchiato freddo, americano con l'acqua calda a parte, doppio bocciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, con retto grappa io ti consiglio il Kafka ha la sua specialità un po' più di un caffè macchiato un po' meno di un cappuccio un bicchiere d'acqua gas, nut, fuori frigo? normale con l'acqua gas, nut, fuori frigo? gas, nut, fuori frigo?